se hai bisogno di soldi o una giunta dell'axo o completi modati non esitare a contattarmi iscriviti a tutti i miei gruppi telegram next gen e all gen ragazzi iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da ps in descrizione trovate i gruppi anche per playstation e adesso al nuovo video benvenuti raga qua è savix che vi parla allora ragazzi oggi glitch esclusivo per ps 5 ragazzi un sacco di ragazzi che mi seguono mi hanno detto che hanno problemi con l'inserire le attività per il fattore che quando hanno fatto trasferimento si sono bagate quindi ragazzi iniziamo con il glitch che vi spiego come baggarvi per scambiare ringrazio sad ragazzi per la clip lascio in descrizione il suo link del gruppo telegram ragazzi se volete non lo seguire anche su youtube veramente una brava persona quindi iniziamo con il glitch ragazzi e passiamo alla clip di play quindi ragazzi i requisiti come al solito sono sempre gli stessi per noi che riceviamo il veicolo dobbiamo avere il com tirato fuori l'oppressor tirato fuori ragazzi e il nostro amico dovrà avere il suo com tirato fuori con il veicolo che ci dà noi che prendiamo il veicolo dovremo anche avere l'abbonamento al casino ragazzi quindi a questo punto entriamo dentro il nostro casino rega e una volta che siamo all'interno del casino andiamo in questa zona vicino al al bancone ragazzi e dobbiamo fare un piccolo trick allora tanto per iniziare ragazzi chiamiamo gerald o simeon rega e ci facciamo mandare un'attività a questo punto una volta che abbiamo l'attività dovete partecipare su anawak quindi aprite il menu ps ragazzi partecipate su anawak e appena avete partecipato su anawak e avete il recupero in basso a destra aprite come vedete il telefono in modo che l'attività di gerald sia aperta a questo punto prima che parta il recupero dobbiamo accettare l'attività di gerald ragazzi a questo punto accetteremo questo messaggio e a questo punto una volta che abbiamo accettato il primo messaggio ragazzi dovremmo accettare anche questo secondo messaggio che vi consiglio di aspettare circa due secondi per ogni messaggio così il glitch funzionerà meglio a questo punto una volta che rispaunerete all'interno del casino se avete la missione di gerald aperta che ve la fa risartare vuol dire che non vi siete buggati quindi rifate il procedimento aprite il telefono partecipate su anawak avviate l'attività prima che vi da recupero accettate il primo messaggio accettate il secondo messaggio ragazzi con un intervallo di due secondi e se quando spawnerete avete l'attività di gerald come vedete in basso a destra con scritto chiusa vuol dire che ci siamo buggati ragazzi quindi a questo punto possiamo uscire dal nostro casino e richiamarci ragazzi il nostro com e l'oppressor se non ve lo siete richiamato ne approfitto per dirvi di lasciare like lasciate un commento supportate xavix ragazzi se siete da play potete andare tranquillamente nel gruppo di sed e iscriversi al suo canale ragazzi veramente una brava persona quindi a questo punto una volta di nuovo dentro casino completiamo il bug andando ragazzi davanti all'ascensore una volta che siete in questo punto dovete andare su attività e aspettare che gli slot partita veloce e avvia attività tornino visibili a questo punto ragazzi quando gli slot torneranno visibili dobbiamo semplicemente cliccare una volta cerchio e poi spammare x ragazzi il risultato sarà che accetteremo il messaggio per entrare dentro l'ascensore e ci avvierà l'attività a questo punto non ci resta altro che schiacciare cerchio e x per quittare l'attività ragazzi e saremo in otr a questo punto una volta che siamo in otr ragazzi facciamo lo scambio com to com classico che c'è funzionante in questo periodo quindi corriamo dal nostro oppressor saliamo sul nostro oppressor ci facciamo mettere una macchina da un amico che sta con noi ragazzi dietro il nostro com a questo punto ci mettiamo sopra il tetto belli fermi schiacciamo freccia a destra se ci despauna il veicolo ragazzi sta funzionando nella maniera corretta a questo punto ci allontaniamo e rimandiamo al deposito l'oppressor così non lo perdiamo ragazzi adesso ci dovremmo richiedere il veicolo da sacrificare tramite il meccanico raga e una volta richiesto il veicolo saliamo ragazzi sul veicolo del nostro amico quando siamo sicuri che il nostro veicolo è spawnato in mappa gli diciamo al nostro amico di entrare nel suo com ragazzi entrando da solo e una volta all'interno mandarci l'invito dentro il com perché se no succede questo che la macchina inizia a flippare e non riuscirete a salirci sopra quindi ragazzi il mio consiglio è salite sul veicolo fate entrare il vostro amico dentro il suo com e una volta che siete sopra il veicolo vostro amico dentro suo com gli fate mandare un invito all'interno tramite il menu interazione e una volta che accetterete il messaggio ragazzi sarete all'interno del com perché sennò se fate come ha fatto set che ha fatto l'amico entra con amici e crew può succedere questo bug quindi a questo punto non ci resta altro che farci invitare nel com del nostro amico accettare il messaggio e una volta che siamo all'interno il nostro amico potrà fare tutti fuori o usciamo noi tranquillamente e sbada bamme ragazzi avremo preso il veicolo adesso non ci resta altro che mandare al deposito se ce l'abbiamo attivo il veicolo che abbiamo sacrificato e richiamare il veicolo ragazzi che sta nel com oppure potete entrare direttamente dentro il vostro com e uscire con il veicolo raga io spero che i miei video vi piacciono raga lasciate un like lasciate un commento supportate xavix iscrivetevi nel gruppo di sed ragazzi collaboratore di ps e sbada bamme al prossimo video raga buona visione